ero 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 un re felice ogni giorno quando facevo le battaglie sorridevo sempre al mio nemico che perdeva o vinceva ma un giorno un terribile giorno successe questo ma mentre stavo combattendo eravamo 1 a 0 e a 0 e l'avversario a 1 non mi scorderò mai di quel giorno il domatore è arrivato sulla mia torre io avevo poca vita ma qualcosa cambiò lui non aveva distrutto la torre ma mi aveva tirato una martellata in testa non so se era stato uno sbaglio o meno ma mi vergogno ma lei ha morito di colpo non so non so più che fine ha fatto quel domatore mi risvegliai e senti qualcosa in me mi sentivo più potente e che ormai non dovevo più stare su una semplice torre centrale ma dovevo diventare una truppa quindi decisi di andare in battaglia con il nome di fantasma royal appena appena stavo giocando in partita nessuno mi vedeva e non sapevo il motivo c'era un moschettiere gli sono andato vicino e non mi notava anche quando stava forse era perché stava combattendo contro un draghetto e ho detto ah è vero sta combattendo contro un draghetto dai però quando il draghetto è morto non mi ha non mi ha nemmeno toccato per salutarmi e allora per questo vantaggio sono andato alla torre quando iniziato a colpirla tutti mi stavano vedendo erano tutti sull'occhio mio a vedermi a osservarmi poi sono morto è ovvio come tutte le truppe di clash però non sapevo di questo mio potere soprannaturale stava arrivando un'ordata di sgarri io avevo una paura matta perché non potevo attaccare in alto non avevo più il mio bellissimo cannone con cui sparare sparare che bei tempi che che comunque quando passò l'ordata di sgarri io loro non mi vedevano non riuscivo a capire perché poi ho capito tutto proprio tutto avevo scoperto che sarei diventato una nuova carta e non era che volevo che sarei diventato una nuova carta quindi credo che sapevano già tutto solo che non mi potevano vedere perché ho questa abilità io sono stato felicissimo e poi ho giurato una cosa una cosa solenne e avrò la mia vendetta e quando troverò un domatore io farò uno spavento così grande che salterà dal maiale fino alla luna io odio i domatori e quindi da questi poteri venivo quasi sempre aggiunto nei deck e io ero felice volevo distruggere tutti i domatori tutte le catene biche rosse che mi andavano incontro volevo solo vendetta vendetta e ritornare sul mio trono e quello che desidero da sempre e finché non lo tengo perseguirò tutti i domatori e anche tutte le truppe rosse d'accordo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi e basta ah comunque se nel video io pizzi no non pizzerò e non dirò dirò r al posto di l e viceversa è perché quando faccio i video a volte mi mi eccito molto e non riesco bene a dire le frasi ma nelle intro finali si quindi un saluto a tutti vedete un saluto a tutti e ci vediamo a tutti e ci vediamo a al prossimo video bello bello